Una pianta di rosmarino lì accanto della menta sono alcune delle essenze arboree della terrazza dell'hotel Mago Plus, una struttura ricettiva al quartiere Libertà di Bari che ha provato a puntare su un modello diverso di proposta finalizzata alla cultura in senso ampio. In quest'ottica si è inserita la rassegna Alleanza che dal primo al 7 aprile vedrà una serie di appuntamenti gratuiti per un'ecologia delle idee e delle persone finanziate dal bando del comune di Bari Un negozio non è solo un negozio. L'iniziativa si comporrà di più moduli, uno dedicato a botanica e agronomia, l'altro sulla lettura e uno sulla zootecnica articolati attraverso incontri e che si accompagneranno a una serie di focus. Noi abbiamo immaginato questo luogo come innanzitutto un progetto di accoglienza non solo per le persone ma anche per le idee in movimento, quindi potremmo dire delle visioni di mondi possibili che attraversano questo pezzo di città e quindi il nostro sforzo è quello di declinare questo sistema di idee che ci attraversano in progetti per la comunità e per il territorio. Il progetto, come detto, rientra in un'iniziativa più ampia dell'assessorato allo sviluppo economico volto a promuovere un nuovo modello di commercio in città. Oggi i Mago e Alleanza che hanno partecipato al bando Un negozio non è solo un negozio guardano all'opportunità della conoscenza della natura, quindi del rispetto dell'ambiente, del rispetto del verde che ci circonda, quindi un negozio non è solo un negozio, non solo come simbolo di continuità di un'attività commerciale ma in questo caso è simbolo di apertura alla natura.